La duchessa di Cambry dovrebbe ridimensionare i piani per il suo quarantesimo compleanno per festeggiare con solo famiglia e amici intimi invece di una grande festa a causa dei timori di Covid. Kate, 39 anni, ha avuto un Natale in sordina e dovrebbe fare lo stesso per il suo compleanno domenica 9 gennaio, mentre Omicron continua a spaccare in tutto il Regno Unito. La regina ha annullato i piani per ospitare il tradizionale Natale a Sandringham con la famiglia reale che lascia i Cambry per ospitare i Middleton invece nella loro casa di Norfolk, Anne Mroll. L'anno scorso Kate ha trascorso il suo compleanno in isolamento con il marito William, 39 anni, e i loro tre figli, il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis. Secondo quanto riferito, il principe William ha organizzato un tea party per la famiglia di cinque persone nella loro casa di campagna nella tenuta di Sandringham. Quest'anno ci si aspetta che tutte le celebrazioni siano di basso profilo. Con la duchessa che secondo quanto riferito non desidera nulla di appariscente per il compleanno importante. Kensington Palace dovrebbe rilasciare una nuova foto della mamma di tre figli per celebrare l'occasione. Una fonte ha detto al Mail on Sunday, è probabile che ci saranno celebrazioni di basso profilo per la duchessa. Non voleva comunque nulla di appariscente, non è esattamente la sua cosa, ma soprattutto dato il clima attuale è probabile che tutto venga ridimensionato. Punto viene dopo che l'autore reale Duncan Larcombe ha detto ok, Kate e William non sono tipo da andare via a festeggiare da soli e lasciare i bambini a casa. Penso che lo stesso si applicherà al compleanno di Kate così come al Natale, sarà di basso profilo e si concentrerà interamente sulla famiglia.